seduta del consiglio del 22 maggio il consiglio regionale approvato il 22 maggio la riforma degli ambiti territoriali ottimali per la gestione di rifiuti e acqua licenziata larga maggioranza anche la delibera che proroga di sei mesi i lavori della commissione speciale di inchiesta sulla gestione urbanistica l'assemblea inoltre commemorato le vittime dei due tragici episodi dei giorni scorsi l'attentato di brindisi e il terremoto in emilia romagna esprimendo solidarietà ai familiari linea ferroviaria ovada alessandria solleciteremo l'assessorato ai trasporti per organizzare un incontro con i rappresentanti della provincia di alessandria e dei comuni dell'ovadese sulla gestione delle tratte ferroviarie di quel territorio così si è espresso il presidente del consiglio regionale del piemonte valerio cattaneo che con il consigliere segretario tullio ponso ha ricevuto il 22 maggio a palazzo lascheri una delegazione di sindaci e l'assessore ai trasporti della provincia di alessandria premiazione diventiamo cittadini europei i temi di 190 studenti di 76 istituti superiori piemontesi che hanno partecipato al concorso diventiamo cittadini europei sono stati premiati nelle giornate del 24 e 25 maggio nell'aula di palazzo lascaris l'iniziativa giunta la 28esima edizione è promossa dalla consulta europea cui è delegato il vice presidente del consiglio regionale roberto boniperti con la collaborazione dell'ufficio scolastico regionale per il piemonte e del parlamento europeo i giovani e il web internet e social network condizionano la quotidianità e ne sono sempre più parte integrante incidono sui rapporti umani e influenzano la trasmissione dei valori ai giovani e questo è il risultato del seminario la comunicazione ai tempi della rete tenuto il 23 maggio a palazzo lascaris organizzato dalla consulta femminile regionale dal comitato associazioni femminili torinesi caft ha visto la partecipazione di diversi relatori con professionalità ed esperienze in materia corsisti del cifo il il vice presidente del consiglio regionale roberto placido ha ricevuto il 21 maggio a palazzo lascaris i corsisti del master in public procurement management del centro internazionale di formazione dell'organizzazione internazionale del lavoro prosegue la collaborazione del consiglio regionale con il cifo il per offrire a coloro che giungono al touring center per un periodo formativo informazioni sulla realtà istituzionale economica culturale e storica piemontese italiana Grazie per la visione!